Il perfetto Pasquariello è il governatore Fontana, il presidente Monti, il sindaco di Casciagoreto e i suoi colleghi di Varese, Luvinate. Una presenza istituzionale nutrita e massiccia, commossa e partecipe a quella che ha raggiunto Morosolo per i 50 anni del villaggio del Fanciullo, un'oasi di innocenza e serenità, protezione e nuovo inizio che valorizza il singolo offrendo un punto d'approdo e ripartenza a bambini in difficoltà e alle famiglie. Più di mille ad oggi le persone, giovani e adulte, accolte da questa gemma incastonata nel cuore verde del Varesotto, che oggi conta sei comunità educative residenziali e tanti progetti avviati o in fase d'attivazione. Alla fine, volo di palloncini e mongolfiera per un fiore all'occhiello che punta in alto, proprio come l'amore e la fantasia.